Ma che bel saltino! Datemi immediatamente il ruolo del Presidente. Datemi immediatamente il ruolo del Presidente. Un po' di coso. Un altro ce l'ha. Un posto dove c'è? Fammelo qui. Datemi mettere. Mettiamoci qui, per favore. Mi sta chiamando. Presidente? Microfono? No, no, non c'è capo. Vai! Così è stupendo. Comunque per noi, guardate. Vai!